Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale di youtube. Oggi con questa guida vedremo un attimo il funzionamento delle uova, come ottenerle, cosa possiamo ottenere al loro interno e come sfruttare al massimo gli incubatori. Per chi non lo sapesse le uova si possono trovare nei pokestop, i pokestop sono questi, questi punti blu che se apriamo hanno questa ruota che gira, io adesso non li posso aprire perché dobbiamo essere esattamente nelle vicinanze di diciamo questo pokestop e una volta insomma nelle vicinanze giriamo questa ruota in questo modo e usciranno tutta una serie di oggetti, usciranno pozioni, usciranno pokeball, megaball e così via e avremo una possibilità di trovare all'interno anche delle uova. Queste uova possono essere di diversi tipi e adesso vi faccio vedere quali. Andiamo in pokemon e poi uova. Ecco come vedete ho uova da 2 km, uova da 5 km che sarebbero queste e uova da 10 km. Cosa cambia tra queste uova? Ovviamente più il chilometraggio sarà alto più avremo la possibilità di trovare pokemon rari. Per metterle nell'incubatrice dovremmo selezionarne una, che ne so quella da 10, schiacciamo metti nell'incubatrice e selezioniamo un incubatore qua sotto. Abbiamo gli incubatori arancioni che sono quelli di base e diciamo sono infiniti però possiamo utilizzarne solo uno per volta. E poi abbiamo degli incubatori che possono essere diciamo trovati come ricompensa ogni tot livelli oppure possono essere comprati nello shop del gioco. Basterà entrare in negozio e poi scendere e come vedete ad esempio questo incubatore uova. Ci costerà 150 monete e ci darà un incubatore. Una cosa che vi posso dire insomma come consiglio che io diciamo ho sperimentato a mie spese perché li ho utilizzati tutti sarebbe quello di conservare appunto tutti gli incubatori blu fino al raggiungimento del livello 20 e fino al livello 20 utilizzare quelli arancioni che sono diciamo quelli gratuiti ovviamente ne utilizzeremo uno per volta. Schiudiamo solamente le uova da due chilometri e poi vi spiego anche perché. Una volta arrivati al livello 20 invece potremmo diciamo conservare tutte le uova da 10 chilometri o da 5 e inserirle dentro gli incubatori blu. Perché vi ho detto di fare questo? Perché abbiamo diversi tipi di pokemon che possono uscire da queste uova. Abbiamo nelle uova da 2 chilometri la possibilità di trovare gli starter come vulvasaur, charmander, squirtle e pikachu e abbiamo la possibilità di trovare anche altri pokemon come ad esempio Magikarp, Pidgey, Rattata insomma pokemon di poco conto. Mentre nelle uova da 5 chilometri abbiamo la possibilità di trovare qualche pokemon più raro come ad esempio Porygon, Tauros, Likitang, Tangela, Gastly, Kangaskhan e così via. E' tutta una serie di altri pokemon. Mentre con le uova da 10 chilometri abbiamo la possibilità di reperire pokemon ancora più rari che diciamo vengono visualizzati veramente poche volte nelle nostre mappe di gioco. E tra questi abbiamo ad esempio Dratini, Snorlax, Aerodactyl, Kabuto, Lapras e avremo la possibilità anche di trovare gli Eevee. Ovviamente vi ricordo che schiudendo le uova troveremo ovviamente un pokemon e questo pokemon ci darà 10 caramelle di quel tipo. Adesso non mi ricordo esattamente se sono 10 o più caramelle ma sicuramente 10 quindi abbastanza caramelle soprattutto se un pokemon raro 10 fanno veramente comodo e riallacciandoci al discorso che vi ho fatto prima di utilizzare gli incubatori blu solamente a livello 20 perché voi avrete la possibilità di trovare al loro interno i pokemon con il massimo dei pl. Ovviamente c'è solamente una possibilità perché potreste trovarlo anche con pl più basso però dal livello 20 avrete proprio la possibilità di trovarlo al pl massimo mentre a livelli inferiori come ad esempio il 19 o più giù non potreste mai trovarlo al pl massimo. Adesso in descrizione a questo video vi metterò un link dove potrete trovare l'immagine con tutti i pokemon che si possono trovare all'interno delle uova da 2 da 5 e da 10 chilometri quindi dateci un'occhiata vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto questo video di lasciare un like che aiuterà questo video insomma ad essere diffuso ad essere più visualizzato che può servire anche a tante altre persone se vi è piaciuto inoltre e volete continuare a seguirmi vi prego di iscrivermi al mio canale che presto arriveranno nuovi video di pokemon ma anche di altri giochi quindi ci vediamo sempre nel mio canale un saluto da rubaldo alla prossima